Una Ferrari 250 GT degli anni 60, una meraviglia per gli appassionati dell'automobilismo e non. Peccato che si tratti di un falso al suo interno, per intenderci c'è un motore V6 della Fiat. Questa curiosa automobile è uno degli oggetti esposti dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli alla Fiera del Levante di Bari. E non a caso la tutela dei marchi, la contrapassione e il Made in Italy sono uno dei temi al centro della discussione in questa edizione della campionaria. Un impegno che l'Agenzia porta avanti anche in Puglia, territorio di passaggio di moltissima merce e in cui vi è un'intensa attività delle forze dell'ordine. La contraffazione è un fenomeno complesso, quindi riguarda tutti i prodotti, in particolare quelli ad alto valore aggiunto. Cosa abbiamo di più alto valore aggiunto in Italia? La moda, quindi il settore delle calzature, della pelletteria e del vestiario, degli indumenti. In particolare le grandi firme, ma non solo, quindi non solo l'haut couture, quindi l'alta moda in senso tecnico, ma anche tutto quello che noi stessi vestiamo, giubbotti a marchio, scarpe e così via. Queste sono particolarmente contraffatte, oggetto di contraffazione. Presente in fiera anche il direttore generale nazionale dell'Agenzia Marcello Minenna, che ha fatto il punto sugli strumenti che possono essere messi in campo per contrastare questo fenomeno. Attività che fanno ricorso anche a strumenti di analisi quantitativa e metodologie predittive, che vengono inserite nel circuito doganale di controllo e che ci consentono quindi di operare in maniera selettiva e poter identificare i carichi anomali. L'anno scorso complessivamente abbiamo sequestrato 10.000 pezzi contraffatti. È una piaga perché l'economia submersa vuol dire criminalità. Grazie a tutti.